Ciao a tutti ragazzi, in questa nuova recensione vediamo le Scarpa Spin Planet. Nuova calzatura da ultra del marchio Scarpa, di cui adesso vediamo pregi e difetti all'interno della recensione completa. Iniziamo come al solito dalle caratteristiche di questa Scarpa Spin Planet. Troviamo una suola presa proprietaria di Scarpa, un'intersuola a media densità con un drop di 4 mm, una tomaia in mesh e microfibra, il tutto per un peso di soli 290 grammi nella taglia 42. Adesso che abbiamo viste le caratteristiche vediamo i pregi e i difetti. Iniziamo come al solito parlando dalla suola di queste Scarpa Spin Planet. Troviamo in questo caso una suola proprietaria di Scarpa, la presa modello TRN06. Poi vi farò vedere in altre recensioni che c'è un po' di differenza tra le suole e presa di Scarpa. Questa suola presa, come lavora? Io vi dico molto molto bene. Ha una tassellatura abbastanza ampia, non tanto spessa, nel senso che il tassello siamo sui 4 mm se non ricordo male, quindi non è tanto alto. È comunque una mescola che vi assicuro ha un ottimo grip. Io l'ho utilizzata anche su roccia bagnata e davvero tiene molto molto bene. L'unico punto in cui sono un po' scivolato è quando ho trovato del fango abbastanza impregnato d'acqua. Cioè per intenderci se ha piovuto per due giorni forse questa calzatura è meglio non utilizzarla. Però per il resto roccia bagnata, roccia asciutta, tutto quello che era asciutto davvero vi assicuro lavora molto molto bene. Come vedete la suola non corre d'attacco a punta. Abbiamo due zone completamente aperte nel tallone in cui è esposto l'intersuola, però in questo caso non è un così grosso problema perché sono incavate all'interno della scarpa e non vanno a rovinarsi. Invece nella parte anteriore troviamo degli intagli appositamente messi lì da scarpa per far sì che la calzatura possa flettersi quando andiamo a spingere in punta. Quindi davvero ho studiato bene questa Spin Planet. Passiamo all'intersuola. Troviamo un'intersuola in eva a media densità. Questo cosa vuol dire? Che è un'intersuola che ha un giusto compromesso tra la morbidezza e la reattività. Soprattutto io direi che in questo caso è la reattività quella che si sente di più. Vi assicuro che io ci ho corso a 4,30 al chilometro e davvero queste scarpe viaggiavano. Viaggiavano molto molto bene. Questo naturalmente è un po' a scapito dell'ammortizzazione perché quando noi andiamo a utilizzare questa scarpa o la mettiamo sulla prima volta risulta un pochino secca. Diciamo che sicuramente non è pensata magari per un corridore principiante. Ma poi per chi è pensata lo vediamo più avanti. L'intersuola a media densità ha inoltre il vantaggio di non farci sentire le rocce. Non essendo molto morbido, anche se camminiamo su delle rocce, non le sentiamo sotto il piede. Almeno che naturalmente non prendiamo dentro uno spunto né singolo come se fosse uno spillo. Allora in quel caso sì, potremmo sentirlo. Ma in generale davvero io ho corso su diverse pietraie e vi assicuro che le rocce non si sentono. Arriviamo a parlare della parte superiore della tomaia iniziando dal puntale. Troviamo un puntale diciamo di media durezza. Non è né troppo morbido, nemmeno troppo duro. Capita che se prendiamo proprio di decisione un bel sasso con la punta, allora potremmo sentire un pochino di male sulla punta delle dita. Mi piace poi che la parte plastica messa sul puntale arrivi fino a metà della calzatura. In questo modo il puntale è molto protetto, la tomaia è molto protetta e non si andrà a strappare facilmente. Per quanto riguarda la tomaia, abbiamo una tomaia veramente molto molto traspirante, davvero. Vi assicuro che l'ho utilizzata in delle giornate, adesso inizio estate, molto calde. Soprattutto l'ho utilizzata in una giornata molto affosa e vi assicuro che questa tomaia traspira molto, davvero tanto. Per intenderci io ho messo il piede all'interno di un ruscello e ci è voluto veramente poco perché questa andasse ad asciugarsi completamente. Quindi una tomaia fatta bene e soprattutto poi tutta la parte traspirante continua fino quasi al tallone. Quindi comunque non abbiamo solo la parte traspirante sull'avampiede. Ma visto che lo accennavo parliamo di tallone, troviamo un tallone abbastanza rigido della parte inferiore, soprattutto dove c'è questa parte nerina. Poi pian piano che sale diventa sempre più morbido fino ad arrivare ad avere nella parte superiore un tallone abbastanza morbido. Mi è piaciuto poi il tallone che in combinazione con l'intersuola a media densità fa sì che questa scarpa sia molto molto stabile. Vi assicuro io ho corso attorno ai 4,40-4,45 al chilometro in discesa su un sentiero abbastanza sconnesso e davvero ho apprezzato tantissimo la stabilità di questa calzatura. Quindi veramente, soprattutto la stabilità è la parte che più mi ha sorpreso di queste Spin Planet. Arriviamo infine a parlare di linguetta e allacciatura. Troviamo una linguetta tipo racing, quindi poco imbottita, ridotta all'osso. Si vede che questa scarpa è stata studiata da una persona che ne sa di 3 running e che corre, perché l'allacciatura è asimmetrica, nel senso che l'allacciatura tende a essere un pochino verso l'interno del piede. Quindi in questo caso, facendo così, riusciamo ad avere un'allacciatura molto precisa, un'allacciatura che non ci farà scivolare nemmeno il piede all'interno della scarpa. E diciamo che in questo caso davvero scarpa se l'è studiata molto bene. L'aspetto che mi fa storcere un pochino il naso è che non abbiamo nessun tipo di taschina audioelastico dove andare a riporre lacci. Considerato che vengono dati in dotazione anche dei lacci molto lunghi, cioè davvero probabilmente fossero stati una 10 cm più corti se l'è andato decisamente meglio, manca, ne sento la mancanza. Infine per quanto riguarda la soletta, questa è una classica soletta di scarpa, mi ci sono trovato molto bene, è removibile se volete metterne una vostra personalizzata, ma io andrei tranquillamente avanti a utilizzare quella data in dotazione perché mi ci sono trovato molto bene. A livello di calzata, come calza questa Spin Planet? Allora, per quanto riguarda l'avampiede, non è un modello wide, però comunque diciamo che c'è qualche millimetro in più rispetto al normale. Questo perché questa calzatura è pensata per chi fa le ultra e scarpa appunto voluto fare un avampiede un pochino più ampio proprio per dar modo al piede di allargarsi senza voler prendere una taglia in più di calzatura. Ma per quale trail runner consiglio questa calzatura? Allora, io andrei su un trail runner medio evoluto, un trail runner da media alta classifica, perché questo tipo di trail runner riuscirà a sfruttare a pieno tutta la reattività data da questo intersuola. Secondo me, se siete dei trail runner che camminano tanto durante le gare, non ha molto senso andare su questo tipo di calzatura, andare su una calzatura un pochino più ammortizzata. Però se invece siete persone che corrono, comunque diciamo che anche nelle gare la maggior parte del tempo correte, allora sicuramente queste Spin Planet possono fare per voi. E su quale tipo di terreno la utilizzerei? Diciamo un po' tutto ad esclusione del fango quando è proprio fango bello impregnato. Come vi dicevo, se ha piovuto per due giorni eviterei di utilizzare questa Spin Planet, arriverà la Spin ST che sicuramente andrà decisamente meglio sul fango. E per il resto io sinceramente ve la consiglio ovunque, davvero. Anche su roccia bagnata tiene molto bene. Dunque, arriviamo alle conclusioni per queste scarpa Spin Planet. Ve le consiglio? Assolutamente sì. Vengono vendute sul sito ufficiale di Scarpa a 149-150€. Io online l'ho già trovata a 130€. Secondo me sì, davvero la spesa vale quello che andrete ad acquistare. È secondo me una calzatura anche che andrà a durare tanto in futuro. E poi non possiamo naturalmente non citare tutta la parte riciclata di questa calzatura. Perché è una calzatura molto attenta all'ambiente. Il 45% dell'intersuola è riciclato, il 30% della suola, se non ricordo male. Comunque in generale Scarpa sta prendendo questa via con la collezione Planet di utilizzare delle tecnologie con tanti materiali riciclati. Quindi brava Scarpa anche da questo punto di vista. Detto ciò ragazzi, io ho una speranza di essere stato esaurante e sostitivo anche per questa recensione. Io vi ringrazio per averla guardata e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!